Ma, a far nulla Allora, che stavo dicendo? Ah, la bambina è seduta sulla panchina, sulle gambe della mamma la mamma sulla panchina, la pelliccia e la bambina, mamma che bella pelliccia, bellissimo te l'ha regalata papà a Natale, papà si aspettava lui tu non eri neanche nata altro che papà questo è un fatto verissimo, che ne sapete voi? ma le barzellette, ripeto, sono veramente tante, tante, tante ma questo poi è l'anno bellissimo per esempio oggi, sembra una barzelletta, quello che è successo oggi sembra una barzelletta, invece è un fatto vero ho cucinato io a casa, poi certe volte ho cucinato potevo fare anche una cosa semplice ho voluto fare un piatto particolare ho cucinato, pensate un po', il minestrone col viagra i piselli duri duri sono usciti, veramente? che sembra una barzelletta, invece è un fatto vero non lo fa, non lo fa, della sera non la capita la barzelletta allora, ora te lo spiego mi resta un po' il viagra allora, l'ha capito, non l'ha capito non ce ne sono, eh?